La Juve, ma nulla con la Juve, io non sono un tifoso di calcio, ma è la moto, per cui ci siamo raccontati dei nostri viaggi in moto, ce ne siamo raccontati di tutti i colori e lui voleva spendere anche lui due parole per ringraziare voi ospiti. Aspettate un attimo. Aspetta, come abbiamo detto? Avete bagnato. Allora, la tagliamo sullo scherzo, nessuno si offende. Avete bagnato, avete bevuto, andate a far culo. Non so, ha fatto il scherzo, ha fatto tutto. E voglio dire solo una cosa, che io sono contento che voi tutti siete venuti al matrimonio di mio figlio. Questa cosa mi riempie il cuore. Siete tutte persone simpatiche e che il Signore vi benedica. E il Signore vi benedica un patto, se no non li benedici. Eh no, abbi pazienza. Che tu, come prima mi avevi promesso mentre ci stavamo raccontando, tu stavi in mezzo e i cinghialotti attorno ballavano. Tu l'hai detto, eh? Chissà se ci stanno a fare sta cosa. Ci stanno. Edoardo, non metti un attimino in mezzo alla pista, papà, grazie. Edoardo, non metti un attimino in mezzo alla pista, papà, grazie.